Il distretto sanitario non si trasferirà più a Sant'Arsenio. Oggi al comune di Sala sarà sottoscritto il protocollo d'intesa tra ASL e l'amministrazione per la definizione del contratto per l'utilizzo e incomodato d'uso gratuito come nuova sede del distretto nell'ex tribunale. Alla sottoscrizione saranno presenti il DG dell'ASL Antonio Squillante, il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL Salerno Sergio Annunziata, il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, il direttore sanitario del distretto Giuseppe Di Fluri e il direttore amministrativo dell'ASL Anna Maria Farano. Dopo una lunga vicenda siamo riusciti a mettere la parola fine sul luogo in cui allocare la sede del distretto sanitario, quindi a Sala. Hanno dichiarato all'unisono annunziata presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL ed il sindaco di Sala Cavallone. L'accordo prevede il pagamento annuale da parte di nove comuni Sala, Atena, Montesano, Montesangiacomo, Sassano, Padula, Casalbuono, Buonabitacolo e Stanza di 10.000 euro, quale quota parte per le spese di utenza.